aiuto mi si muove tutto c'è la minuccia baia ma io volevo lasciare un saluto alle amicizie notturne so che ce ne sono abbastanza che trascorrono qualche ora della notte qua anche mi accompagna e allora vi lascio un pensiero vi lascio un bel pensiero c'è l'oreste che gironzola per la notte ghiacciata è fatto così quel gatto se ne è dormito quattro ore in beata pace nella dormosa adesso lui gironzola poi pretende di entrare in casa poi di riuscire insomma l'inverno ce lo fa pagare il micione di una serata calma anche se è stata una giornata strana molto strana la stufa va continuo a rimpinguarla bisogna mantenerla accesa le notte sono parecchio gelide e la casa si raffredda la sto scaldando ce la sto facendo solo con la stufa la mia piccola stufa legna in cucina piccola perché è una cucina economica e ha una camera di combustione piuttosto ridotta però se la cava bene se la cava bene la casa è asciutta anche se purtroppo la parte superiore non è poi così calda ma tanto il tempo lo trascorro di sotto lo studio di inverno mi vede proprio transitare velocemente e questa mattina è stata talmente fredda poi era più di una settimana che non accendo la stufa pellet quindi sto attenta che non scenda troppo la temperatura quindi ho acceso un'oretta sì un poco meno forse tanto mi serviva anche per il bagno piuttosto che accendere il termoconvettore no io al ghiaccio non mi lavo un po freschetto va bene un ghiacciolo c'è una certa mi rimango ingrippata poi durante il giorno mi metto i miei bei golfettini oggi mi sono vestita proprio come una pazza mi ha divertito la cosa da parte che ho un paio di calzoni veramente comodi che meraviglia camilla mi ha regalato tre paio di calzoni veramente meravigliosi poi sto preferendo non lo so oggi quelli marroni di lana ma ma sono proprio belli eh di allora me ne ha regalato un paio che sembra un picché di lana non ve lo so spiegare quella quel tessuto così operato e sono in lana angora e un po di viscosa ma la meraviglia poi non stringono non aderiscono non sono troppo lunghi non sono troppo corti in vita stanno tranquilli senza stringere non cascano sono morbidi belli caldi però è talmente fresco balda l'aria evito di cambiarmi mille volte e quindi indosso sotto questi bei calzoni di cotone felpato spessi una un collant termico è una meraviglia perché poi non stringe per niente nemmeno questo in vita quindi mi sento bene come se non lo avessi poi ho le causette della nonna di max di max di max knit e tricot e crochet scusa o mi sbaglio sempre il mio amico spero non si offenda ma lo sa che io sono vecchia rimbambita e quindi non le mollo mai no no i miei piedini stanno al caldo poi non stringono quelle calze sono proprio perfette per le mie scarpe da trekking e oggi abbiamo fatto una bella giratina con la minu siamo andate a portare le carote alle somare glielo scaldate sulla stufa poverine tengo un frigorifero anche se non è bassissima la temperatura ma arrivo arrivo da loro che sono ancora ghiacciate allora glielo scaldate un po sulla stufa e abbiamo anche raccolto una bella paiolata di rametti con la minuda e mi fa compagnia poi se ne va in giro ad annusare qua e la ho votato il paiolo di cenere che poi l'ho riempito di legnetti così ce n'ho per almeno 3 3 4 accensioni è stata una bella giornata anche se il cielo un po matto ora nuvole ora sole però ho fatto un po di foto all'aperto vi ho fatto una chiacchierata quella che riguarda appunto la rifinitura dello scialle dal tutorial balengo ci vuole un po di pazienza però so che qualcuno l'ha capito e già lo hanno cominciato mi dà tanta tanta gioia questa cosa in settimana prepariamo un altro tutorial sempre crochet così e devo sto cercando di pensare con quale filato ve lo propongo è veramente una cosa anche quella molto 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 antistress e con quel progettino lì ho utilizzato un sacco di filati poi ne parleremo adesso ho preparato queste cose qua ho fatto i calcoli finalmente per il polso questo è un golf che ho montato credo questa estate fine estate insomma avrei dovuto consegnarlo a camilla settembre come vedete ancora qua e sono il merlin non so se c'è ancora ma il bubble di lolocrea non c'è più ed è un filato bellissimo e mi fossi scantata prima a provarlo l'avevo insieme ad altri insomma quando poi mi è venuto in mente cosa poter fare con il rosso perché è stato presentato in soli tre colori un bellissimo rosso e un verde piuttosto brillante un giovanni mi è venuto a pagare il rosso l'avevo appena terminato lui è bello è gonfioso è spugnoso è torto è torto carino è torto proprio carino vedete un po' è proprio spugnoso spugnoso poi è una bella mischia perché un 70 per cento merino e 30 viscosa per 100 grammi queste sono le prime etichette non ci sono i metri non me lo ricordo è sul sito c'era scritto ma non me lo ricordo poi ho utilizzato il merlin nei bordi quindi ho preparato il davanti e il dietro farò le maniche a parte ho deciso le faccio con i feri dritti non mi interessa poi le cucio amen non ho voglia di impazzimenti però poi con i feri circolari monterò tutto insieme e realizzerò uno sprone che ce l'ho in testa però poi vedrò quando sarò al momento come mi renderanno le varie diminuzioni e vedrò vedrò se portare avanti il progetto che avevo in mente o di adattarmi man mano che vado verso il collo ma chi ce ne importa a noi e tanto a camilla interessava che fosse corto che non fosse troppo aderente anzi per niente e gli andava di avere lo sprone piuttosto poi il merlin questo filato che è simile è simile l'altro il bubble è più matte il merlin è un bianco anch'esso non ottico appena appena un po più caldo e anche questa è una bella mischia perché è un 30% lana 50 cotone e 20 nylon in nylon consiste nelle paillettes e in questo in questo bel filato lucido e morbido questo lo sto utilizzando nei bordi ecco questa è la parte bassa ho fatto i calcoli di come fare il polsino quindi saranno diversi ecco qua abbiamo del legaccio una costa a maglia rasata e tra la costa piatta a maglia rasata ho due maglie rovesce una per lato rovesce a rovescio eccolo qua si vede la differenza tra la maglia rasata e la maglia legaccio quindi finalmente faremo questa cosa spero di terminarlo prima di domenica perché prima della prossima settimana quando salira Camilla voglio fare anche un altro golf per l'altra ragazza di casa e quindi sono contenta insomma di portare avanti queste cose di portare avanti un po' di chiacchiere con alcuni di voi anche in separata sede e sono contenta di poter essere d'aiuto insomma e anche di compagnia quindi adesso vado mi preparo mi sono già scaldata il pigiamino si fanno le corse pazze fra sopra nel bagno e sotto dove c'è il po' più caldo otterrò la porta della cucina costata in modo che nella nottata insomma almeno questi due ambienti non si gelino esageratamente la sala da pranzo la è freschetta ma non come lo studio lo studio neanche se teniamo la stufa pellet che lì a fianco ha acceso a 24 ore e si scalda d'inverno mannaggia però è bello così e purtroppo abbiamo delle finestre veramente molto vecchie non sono brutte fanno simpatia però il legno è assolutamente disidratato poi sono vetri semplici non c'è doppio vetro ci sono gli spifferi che passano da tutte le parti ma soprattutto sopra nei cassetti che corrispondono ai rulli nel vano come si dice delle tapparelle abbiamo messo della spugna ma non è adatta non è sufficiente il problema è che ci dimentichiamo sempre quando siamo fuori casa di andare a prenderlo diciamo va bene adesso andiamo dal ferramenta prendiamo queste cose e poi si facciamo altre ci dimentichiamo però ecco la cosa bella di questa casa che è assolutamente asciutta non c'è umidità da nessuna parte non ci sono macchiette di umido nemmeno un bagno sopra la doccia per niente dirai con gli spifferi ci sono case che problemi di umidità ne hanno noi per fortuna siamo sollevati anche se siamo quasi a livello strada dalla parte del vicoletto e mi piace avere una finestra un po' più bassa però abbiamo la cantina e proprio sotto a quella finestrella c'è la finestra lunga un punto d'aria diciamo perché è un punto luce della nostra cantina quindi ecco non abbiamo problemi di umidità di risalita e non è cosa da poco perché qua quasi tutte le case hanno questi gravi problemi di umidità da risalita mentre dalla parte di là siamo alte io sotto ho l'entrata della cantina quindi siamo già da questa parte quasi piano terra dalla parte di là senza scalini mi fa troppo d'idea perché non mi sembra che ci sia tutto questo dislivello pure di là siamo alti e poi dalla parte di sopra lo studio è proprio bello altino è bello è bello c'è una vista così bella quel cielo quel tanto cielo è proprio bello quindi adesso sapete cosa faccio vi auguro una buonanotte vado a mettere a riparo la torta che ho sfornato questa sera anzi ve la do questa dritta allora la ricetta del gâteau de savoie che faccio a casa ormai la sapete tutte voi tutte e tutti voi affezionati ma la ripeto per i nuovi iscritti anzi grazie o anche per chi non si iscrive continuo a passare perché vedo che le visualizzazioni sono costanti e allora sono contenta di poter tenere compagnia tutti i giorni a così tante persone e il gâteau de savoie lo preparo così allora 60 grammi di farina di riso bella fine e 50 grammi di fecola di patate 100 grammi di zucchero 4 uova belle grandi io un po' mi adatto perché sono uova di qua di paese quindi a volte sono grossa a volte sono piccole e un pizzichino di sale che metto quando sbatto a neve gli albumi poi a volte grattugio un po' di scorza di agrume quindi ora di arancia ora di limone a volte non metto niente perché a me il profumo dell'uovo piace dell'uovo zuccheroso anzi in una mi c'è dato anche un po' di cacao perché avevo preparato un dolce a cacao e me ne è andato troppo avevo preso due cucchiaiate e l'ho infilato in mezzo alla fecola non so perché però era molto buona uguale questa è la mia ricetta base quindi come la preparo? monto gli albumi a neve ben ferma dopo aver già pesato tutti gli ingredienti quindi metto già insieme fecola e farina di riso separo gli albumi appunto dai tuorli e preparo la teglia a volte uso lo stampo classico quello scanalato ultimamente sto utilizzando una teglia bassa quadrata circa 6 cm il bordo che ha delle scanalature buffe alla base è una teglia in silicone perché ho notato che riesco a cuocerla perfettamente nella stufa a legna e di solito i levitati non mi vengono bene perché il calore non è costante non è omogeneo quindi se sono alte le teglie rischio di bruciare la parte alta la sua metà e di non avere la cottura invece viene proprio bello leggero mi cuoce ancora meglio che nel forno a legna ormai ho imparato più o meno quanto deve essere caldo il forno e come prepararlo è una questione dei fuochi di braccio e allora cosa ho fatto avevo un po' di mele mia sorella mi ha riempito di mele in casa io non mangio frutta d'inverno uso solo limone e allora ho affettato ho fatto dei piccoli tocchetti di due mele le ho messe in un pentolino e ho messo un dito circa quindi le ho quasi coperte questi tocchetti con del fragolino che avevo in frigorifero e le ho fatto cuocere piano piano prima col coperchio perché erano un po' toste le mele e poi ho fatto asciugare ho sparpagliato il tutto sul fondo della teglia leggermente unta col pennello e quindi poi mi sono dedicata all'impasto ho lasciato la teglia sopra un'altra teglia che uso come supporto perché spostare le teglie in silicone non è semplice è tutto un ballonzolare quindi si fanno dei disastri quindi avevo già scaldato questa teglietta che poi poso sopra la teglia che rimane nella parte alta del forno ho messo lo stampo e l'ho lasciato a scaldarsi con poi già sulle mele ho fatto montare gli albumi poi ho tolto dalla planetaria gli albumi li ho messi in una grande ciotola nella planetaria ho aggiunto i tuorli con lo zucchero non è necessario pulirla e l'ho montati abbastanza non serve diventarci matte è importante che sia abbastanza montato lo zucchero e poi ho aggiunto gli albumi con una spatola quindi senza le fruste in tre volte quindi una bella cucchiainata abbondante per ammorbidire l'impasto ah scusatemi ho aggiunto le farine no quando ho montato abbastanza lo zucchero con i rossi ma non serve farli diventare bianchi ho aggiunto le farine a media velocità poi ho staccato bene l'impasto dalla base della ciotola della planetaria e ho aggiunto in tre volte gli albumi e poi ho versato il tutto nella teglia una volta versato nello stampo insomma in silicone che stava già scaldandosi sul piano della stufa ho aggiunto ho sparpagliato un po' di mandorle sulla sommità dell'impasto e ho infornato e oggi mi ha cotto in circa mezz'ora qualche giorno fa l'avevo già fatto senza le miele in venti minuti era proprio cotto asciutto perfetto soffice un profumo allora poi l'ho fatta raffreddare aveva un avanzo di cioccolato fondente in un fondo in un pentolino di qualche giorno fa l'ho fatto scaldare piano piano sulla stufa a legna e poi ho fatto i ghirigori mi sto divertendo ad abbellire i dolci con questi ghirigori e quindi ho fatto i ghirigori sopra la torta e domani lo facciamo assaggiare un po' al vicinato qualche tocchettino lo portiamo qua e là e domani vi racconto una bella ricetta da fare con il cavolfiore preparatevi gli ingredienti è una cosa veloce la potete fare anche per cena quindi vi servirà un cavolfiore crudo bianco e sottoli se ne avete due cucchiaiate io uso la ricotta salata non ho l'abitudine ormai a cucinare con i formaggi però ogni tanto mi concedo o la feta o la ricotta salata o un po' di pecorino ma non come come pasto diciamo allora due albumi uno o due albumi un bel cavolfiore un pizzico di sale sottoli o se voi potete usare il pomodoro il pomodoro la mozzarella se l'avete ma si metterà poi e basta ah un cucchiaio di farina di riso basta tutto lì quindi domani vi racconto questa cosa da cucinarsi nel forno è gustosa è proprio divertente e la potete anche realizzare in monoporzioni buonanotte a domani e domani farò vedere le maniche cominciate che non comincio adesso ho fatto i calcoli domani comincerò questa cosa giovedì venerdì sabato vabbè magari per domenica ce la faccio magari sì buonanotte e vi auguro sogni sereni cerchiamo di non avere paura passa tutto passa bello e passa il brutto si troveranno le soluzioni e le porte degli inferi com'è che dice ecco quindi sorso un corda e a domani a dio piacendo ma a domani